Possiamo anche addobare la piazza con più luci, più alberi, più attrazioni, ma non possiamo combattere contro l'ignoranza e la maleducazione di pochi. È duro lo sfogo del Virozai, sindaco di San Giovanni Suergiu, all'indomani dell'attacco che i vandali, probabilmente ieri notte, hanno scatenato contro l'albero di Natale allestito dal comune nella centralissima piazza 4 Novembre. I noti, infatti, avrebbero divelto i cavi che alimentano le luci sistemate sull'albero spegnendo così le luminarie. Un'azione gratuita e priva di senso, se non quella di danneggiare gratuitamente un allestimento realizzato per abilire la piazza, dove sono state sistemate altre luminarie oltre al presepe della parrucchia, e rallegrare in tempi non certo facili un momento che i bambini attendono con ansia, e regalare allo stesso tempo un po' di spirito natalizio alla comunità. Preso amaramente ato del raid, comunque il comune non intende trascurare l'episodio. Intanto ci guardiamo le telecamere per vedere chi sono queste persone, e poi prenderemo provvedimenti. Possiamo fare mille investimenti per rendere bello e attrattivo il nostro paese, ma ha stigmatizzato la prima cittadina, finché ci saranno questi grandi maleducati non andremo da nessuna parte. Confido nel controllo sociale dei tanti concittadini onesti della nostra comunità.